Sono Sebastiano Cannavo della Secure Event, una società che sta seguendo da quattro anni il giro come servizio di accoglienza, controllo, controllo Covid e tutto. E' quindici anni che sono in RCS, ma ho quattro anni che ho il piacere di essere anche al Giro d'Italia. Sicuramente questi ultimi due giri, questo di ottobre e quello di adesso, sono stati un po' più particolari, se proprio vogliamo dire, dato che abbiamo avuto queste restrizioni da controllare, però dai, con tutto quello che c'è stato siamo riusciti comunque a fare il nostro lavoro. E' quello che ci hanno chiesto. Speriamo che vada tutto bene, me lo auguro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.